Si chiamava Kaelin Gillis, era una bellissima e meravigliosa fanciulla che aveva solo 20 anni di età, purtroppo è stata brutalmente fatta fuori perché in pratica aveva, diciamo così, sbagliato strada e ha preso un violetto non corretto, cercava di raggiungere la sua abitazione o meglio quella di un carissimo amico. Dopo si è accorto di avere sbagliato strada, forse i navigatori l'ha fatta errare miseramente parlando e mi mette una rotta per tornare i suoi passi, ma il proprietario di casa è uscito e ha sparato verso l'auto, andò a me imbracciare un fucile. Le parole parlottole hanno colpito in piano la ragazza e l'hanno letteralmente fatta fuori. Tra amici hanno raccontato tutto quello che è successo, anche perché tutti e tre erano presenti insieme a me. Ovviamente le indagini sono state aperte, tutto questo si è verificato a Ebron, ci troviamo nello stato americano del New York, e l'uomo che ha fatto fuori la povera ragazza si chiamerebbe Kevin Monahan, un 65enne, questa è la sua età. Ovviamente non c'è stata una collaborazione, da parte le indagini come in questione, intanto però il processo si è già aperto, è stato già avvenuto. Se ci saranno eventi o ragionamenti, ovviamente me li riponerò per tempo, a prossima vicenda così incredibile, ma al tempo stesso così scioccante che fuga. Ciao, tra il narratore italiano di YouTube Italia, Kailin Gilis, ripondo in pace.